La visita in Italia per questo straordinario colloquio che abbiamo avuto durante la nostra collazione di lavoro con le nostre rispettive delegazioni. Noi ci eravamo già incontrati a Sharm el Sheikh durante la Coppa 27 nello scorso novembre e immediatamente ci è stato chiaro che le relazioni che Italia e Etiopia hanno avuto e hanno storicamente potevano con i nostri rapporti intensificarsi ancora di più. Quindi anche oggi ovviamente abbiamo confermato la profondità dei legami che uniscono le nostre nazioni e i nostri popoli, sono legami storici che nel tempo si sono arricchiti grazie a un rapporto sempre più intenso sul piano economico, sul piano politico, ovviamente questo governo intende rafforzarlo con quello spirito di parternariato paritario, di cooperazione nei confronti particolarmente delle nazioni africane sulle quali stiamo ovviamente dedicando buona parte delle nostre energie, quel piano Mattei per l'Africa che abbiamo lanciato come idea di cooperazione allo sviluppo che possa aiutare i paesi africani a crescere utilizzando al meglio le tante risorse di cui l'Africa dispone. Al primo ministro Aibio è ribadito che l'Italia è stata, continuerà a essere al fianco di un'Etiopia unita e stabile, a maggior ragione in questa fase cruciale del suo percorso di pacificazione nazionale, di consolidamento democratico. L'Etiopia è ovviamente per noi un perno nella stabilità del corno d'Africa, nella stabilità di tutto il continente africano, per questa ragione l'Italia intende sostenere il suo pieno sviluppo perché noi abbiamo ovviamente l'ambizione di essere un partner privilegiato della Regione e intendiamo svolgere quel lavoro con sempre maggiore determinazione. Nel corso del colloquio abbiamo condiviso riflessioni ovviamente sulle evoluzioni positive del conflitto nella Regione del Tigre, ovviamente seguiti alla recente firma dell'accordo per la cessazione delle ostilità. Noi ovviamente attribuiamo all'attuazione dell'accordo grande importanza. Ho sottolineato al Primo Ministro la nostra soddisfazione per il lavoro che il Governo sta facendo e ho assicurato che l'Italia continuerà a fare la sua parte come ha fatto finora. Sul piano bilaterale ovviamente voi sapete che la nostra cooperazione economica è un elemento importante e di questo abbiamo parlato molto perché crediamo che quella cooperazione possa crescere, c'è una presenza stabile di imprenditori italiani, di aziende italiane stimate per il lavoro che sanno fare e crediamo che ci siano molti ambiti nei quali aumentare gli investimenti italiani, aumentare questa cooperazione a partire dal piano energetico che come sapete ovviamente è una delle questioni principali sulle quali stiamo lavorando, ma infrastrutture e molti altri settori, sul settore della difesa ci piacerebbe lavorare a una cooperazione maggiore, sul campo, nel campo della formazione per i giovani etiopi anche come strumento per favorire ovviamente oltre gli investimenti delle aziende italiane anche poi la capacità di avere persone che di quegli investimenti e grazie a quegli investimenti possano crescere nel lavoro e possano ovviamente contribuire alla crescita della loro nazione. Noi abbiamo in programma nelle prossime settimane insomma una missione in Etiopia che vorremmo fosse accompagnata anche da imprenditori italiani, quindi una missione anche imprenditoriale in Etiopia nelle prossime settimane, adesso individueremo la data e la organizzeremo in tempo rapido. Ovviamente voi conoscete il grande impegno della cooperazione italiana in Etiopia attraverso il quale l'Italia ha sempre assicurato un sostegno allo sviluppo del Paese e ai bisogni della popolazione, la giornata di oggi è stata anche quella che ci ha consentito la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta che dà il via al nuovo programma triennale di cooperazione allo sviluppo in favore dell'Etiopia del valore di 140 milioni di euro di cui 100 milioni a credito e 40 milioni sotto forma di doni. È un programma di aiuti molto importante e conferma la nostra volontà di continuare a accompagnare il percorso di sviluppo dell'Etiopia ponendo un forte accento su iniziative appunto destinate in parte alla formazione, alla creazione di posti di lavoro in favore dei giovani che possano essere dotati di competenze tecniche e professionali per migliorare le loro aspettative. A questa importante firma se ne è aggiunta un'altra, il Vice Presidente del Consiglio, il Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione Antonio Tajani e il Ministro delle Finanze Etiope, Ahmed Shider, hanno firmato due ulteriori accordi per l'erogazione di crediti per 42 milioni di euro per iniziative sulle filiere del tè, del caffè e sulle infrastrutture idriche nelle aree aride dell'Etiopia. Quindi sono molto molto soddisfatta di questo incontro, sono soddisfatta della nostra amicizia e sono certa che continueremo a fare insieme un lavoro straordinario. Grazie mille. Primo Ministro Giorgia Meloni Grazie mille. Lei ci ha dato un'accoglienza calorosa e questo è l'inizio di un nuovo capitolo nelle nostre relazioni. Nel corso del nostro incontro abbiamo sottoscritto gli accordi di cooperazione in vari settori. quello che io sicuramente ho visto nel contodietro del vostro impegno è appunto verso un'amicizia, una fiducia e un rispetto reciproco. L'Italia ha fatto tante cose che sono a testimonianza di questi sentimenti. L'Italia è stata ed è con noi in modo solidale. ci sono varie iniziative che testimoniano la forma di amicizia che all'Italia verso l'Etiopia. Quello che ho anche visto è che abbiamo visto quanto segue. Quando noi veniamo in Italia ci sentiamo a casa, ma anche voi quando venite in Etiopia avete degli emblemi, dei simboli che possono testimonianza di questa amicizia. L'Italia è un paese bellissimo. Ci sono così tante cose che noi possiamo imparare dall'Italia. L'Italia è anche così ricca di storia e adesso una donna forte Presidente del Consiglio è a capo dell'Italia. L'Etiopia vuole sicuramente intensificare i rapporti con lei e con il suo Governo. Sino ad oggi sono stati sicuramente di successo, non solo col Governo italiano, ma anche con le imprese italiane come Salini e tante altre imprese che non solo operano in Etiopia come attività imprenditoriale, ma anche proprio come Etiopia. Quindi noi vogliamo ampliare gli investimenti in Etiopia, soprattutto in termini di capacità da poter sviluppare. Vogliamo lavorare anche nel campo delle intelligenze, nel campo militare, vogliamo rafforzare questi settori. A livello proprio diplomatico rispondiamo ringraziare l'Italia che è stata a nostro fianco durante questi anni e noi a nostra volta saremo pronti a rimanere a fianco all'Italia. abbiamo avuto un incontro molto fruttifero e positivo durante il nostro incontro e quindi desidero togliere l'occasione per ringraziarla ancora sentitamente per la calorosa accoglienza di cui siamo stati oggetto e sicuramente grazie ancora per la prontezza con cui l'Italia è pronta appunto ad aiutare ancora di più il proprio impegno verso l'Etiopia e non ho dubbi che questo sarà ancora rafforzato nella sua visita in Etiopia. Grazie.